la classifica delle consulenze private eccola qua benvenuti in questa ventunesima puntata Giovanni Redi non sono un personal trainer anche oggi ne faremo di bella anche oggi ci aspetta un'altra bellissima classifica ma prima di tutto ragazzi vi ricordo di iscrivervi qui al nostro canale youtube in modo maniare che tutte le volte che esce un video vi arriva la notifica e potete andare a vedere ci sono video informativi video testimonianza e video di allenamenti pratici ok tutto gratis ragazzi tutto gratis una cosa incredibile mi fanno fare un sacco di cose io sono qui dalla mattina alla sera allo studio registrale va bene andiamo avanti pensiamo ad altro dunque oggi parleremo di consulenze private chi ha fatto più ore e chi è stato più in contatto con me e chi ha ottenuto più risultati di queste consulenze private perfetto ve ne parlerò subito oggi ma prima di tutto ragazzi fatevi dire una cosa molto importante che le consulenze private sono quelle che fanno veramente la più di tutti la differenza è inutile che vi fate fare la tabella il discorso e l'alimentazione e quello ovvio che c'è tutto un altro meccanismo che l'abbiamo parlato più volte l'ho detto non so quante volte che prima di tutto il mindset l'allenamento l'alimentazione come si basa l'allenamento per tonificare dimagrire ok però cosa succede succede una cosa molto importante un conto è prendi il programma di allenamento te lo fai per conto tuo io sono assolutamente contrario ok io sono contrario a queste cose qua tra l'altro io non le vendo neanche perché tutte le persone anche se coprono un programma a meno una telefonata con me o una videochiammata o con uno dei miei treni la devono fare assolutamente anche perché se no cioè ragazzi che cavolo ci sto a fare io quindi se no mi dico fatelo per conto vostro però non avete bisogno di me andate sul canale youtube e guardate i video però i file dati avete già dimostrato cioè se siete qua avete già visto che non funziona ragazzi diciamoci le cose come stanno vabbè detto questo perché credo tantissimo nelle consulenze private perché le consulenze private portano grandissimi risultati innanzitutto avete un trainer a disposizione o me direttamente che vi aspetta a quell'ora c'è quell'appuntamento c'è quella cosa da fare o in presenza qui allo studio oppure online possiamo seguirvi e prendere un appuntamento sapere che quel giorno lì a quell'ora devi essere lì e c'è una persona che ti aspetta per te per i tuoi obiettivi per dovevo andare e tutto già distrugge il mito non sono continuo no anche perché cominciamo alle 5 e mezzo del mattino e finiamo alle 21 di sera quindi la scusa del tempo l'abbiamo già eliminata quindi questo era il punto numero 2 il punto numero 3 è che essere seguiti dalla A alla Z vuol dire accelerare i risultati e io penso una cosa nella vita che tanto parliamoci chiaro e tutto parliamo in maniera precisa no? è diretta i soldi si possono perdere e ve lo dice uno che comunque di queste cose ne sa però vi dico anche una cosa che veramente cioè secondo me proprio l'ape porta di tutto che il tempo non ve lo dà indietro a nessuno quindi se perdete tempo quella è una cosa molto brutta io preferisco perdere piuttosto dei soldi ma non perdere tempo ok posso mai aver fatto l'investimento sbagliato posso aver comprato una cosa che comunque non mi ha portato risultati mi gira coglioni scusate mi termine però il tempo non ce l'ha da indietro a nessuno quindi le consulenze private sono qualità prezzo e tempo micidiale perché io faccio 100 perle e invece tu ti fai l'alimenti per conto tuo poi dopo ti rompi gli oglioni e di conseguenza cosa succede? c'è un treno che ti aspetta per il risultato e per l'obiettivo si ride si scherza si crea un rapporto si crea una relazione si crea qualcosa di fiducia di forte che ci fa svegliare la mattina e dici cavolo c'ho per questo problema ho la soluzione c'è una persona che mi dedico che si dedica ai miei problemi c'è fantastico poi se sei prima battuto ovviamente che lo devi fare ma sapere che ci siete immaginate che ci sono io che ti aspetto da un'altra parte dello schermo che ti aspetto allo studio cosa può succedere no? trasformazione immediata ok quindi parliamo di chi ha ottenuto più risultati nelle consulenze private chi è stato più tempo nelle consulenze private con me e soprattutto chi oggi si merita l'applauso perché premerò le prime tre persone eccoci qua ragazzi terza persona classificata sto parlando di una nostra cliente veramente speciale veramente che ormai si è creato anche un rapporto fantastico anche se non ci siamo mai visti dal vivo perché questa è un po' la cosa tra le persone che non l'ho mai vista dal vivo è una nostra cliente siciliana a Natale mi ha mandato anche dolci quindi ci ha provato anche a farmi ingraziare ok però è una persona che tutte le volte mi chiede le lezioni è una persona che mi chiede sempre l'appuntamento che si cerca di fissare qualcosa io e lei testa a testa perché vuole migliorare ha bisogno sempre del contatto direttamente con me come fai a dire di no una persona così speciale così dolce e soprattutto gentile sto parlando della nostra terza classificata Alessia Giacastro è veramente la persona in gamba e ha fatto un sacco di lezioni private e soprattutto è sempre costantemente in contatto direttamente con me io non ho mai, cioè tra l'altro è una cosa che mi fece notare che lei è mai mandata al centro assistenza o mai mandata ad un altro trainer perché comunque lei ha preso un pacchetto personale con me e quindi io la seguo dalla mattina alla sera quando naturalmente posso commemorare le cose e tutto però non le faccio mai mancare niente lei è molto contenta e sta ottenendo i grandissimi risultati e io ti ringrazio e meritavo di essere premiata e adesso al secondo posto classificato qui ragazzi qui c'è del livello eh sto parlando di una persona che ha perso 13 kg una persona che era completamente sedentaria una persona che è un imprenditore, un noto imprenditore di Torino una persona veramente che ha fatto grandi cose nella vita un uomo veramente impegnato, lavora costantemente, ha una famiglia, due bellissimi bambini e quindi insomma vi potete immaginare il carico di peso, di lavoro che ha una persona di genere nonostante tutto dall'oggi a domani le ha presa a quella cosa che ha un switch mentale che ha cambiato lo stile di vita, ha cominciato ad allenarsi e passo passo sta ottenendo i grandissimi risultati adesso è da perdere 13 kg a rimettere massa muscolare e venire fuori con un bel fisico dottore tra l'altro abbiamo anche pensato di fare un programma, un percorso per due anni insieme e sono contentissimo di seguirlo perché è veramente in gamma è soddisfazione allenare questi tipi di persone perché sono performanti quindi le amo proprio tantissimo perché chi aveva dei problemi e oggi fa di tutto il possibile per risolverli e io sono proprio lì accanto per superare tutti gli ostacoli insieme a braccetto e abbiamo fatto un sacco di lezioni anche insieme dove io mi allenavo e lui si allenava insieme a me e poi ho fatto fare anche di mia allenamenti quindi bravissimo sto parlando di Gianluca Traversa, grandissimo Gianluca, mitico numero uno perché sei stato veramente in gamba su questo aspetto, non era facile numero uno ovviamente per performance, per quello che hai ottenuto però hai fatto tante ore ma c'è una persona che ne ha fatte molto di più di te nulla a togliere, Gianluca ci conosciamo anche da poco però c'è una persona che è veramente numero uno in assoluto perché è un anno e mezzo che fa solo e sicuramente lezioni con me due volte a settimana e questa è anche lì un altro noto gli imprenditori come vedete sono tantissimi imprenditori che seguo proprio perché è un po' il tipo di persona seguo tantissime donne e ovviamente imprenditori ma gli imprenditori molto di più in consulenza privata perché sono quelli che hanno meno tempo io li capisco perfettamente perché gestisco tutto io in azienda oltre che comunque c'è tutto un gruppo di persone poi comunque era lì più un ragazzo che si chiama Franceschino e di conseguenza cosa succede che questa persona qua che adesso vi dirò il nome è un altro imprenditore, ha fatto già la testimonianza con noi io penso che avremmo fatto più di 100 ore di lezioni private e la cosa che stimo tantissimo di questa persona è che ha 50 anni e nonostante tutto sempre lì sul pezzo è uno che cavolo gli piace gli piace sempre superarsi e ha questo obiettivo di fare gli elementi come un ragazzino e quindi è difficile perché è una persona che è difficile da gestire, da controllare ma è una persona che comunque ha voglia di mettersi in gioco e non lo fermi cavolo ragazzi, non lo fermi io tutte le volte ti devo dire cioè veramente è da controllare poi io che fermo le persone, vi potete immaginare no? cioè nel senso che sono matto con un cavallo però vi dico che è veramente una persona tenace è fantastica e ragazzi, numero uno rullo di tabuli Carlo Bernati ragazzi, complimenti fantastico Carlo mitico sei riuscito direttamente da Verona a conquistare la vetta delle consulenze private e soprattutto dei risultati che hai ottenuto grazie alle consulenze private e soprattutto no, ho detto grazie alle consulenze private ma è ovvio che ragazzi io faccio il 20% l'80% lo fanno i miei clienti Carlo veramente è uno che fa anche forse il 90% perché spinge come un toro è veramente tosto e complimenti perché ti sei per il primato sei arrivato perdonami al primo classificato no, perché mentre pari ho perso anche un po' a tutte le nostre lezioni e cavolo lui sempre con la sua palestrina in casa veramente che spinge come un dannato o qualsiasi temperatura che c'è che anche quando è freddo cavolo si mette lì e si allena nel suo garage che si è fatta tutta la sua palestra quindi straordinario complimenti ragazzi come avete visto qui le cose accadono abbiamo tantissimi clienti siamo a centinaia di clienti che seguiamo in consulenze privata direttamente con noi però vi voglio dire una cosa che ci sono tante persone che hanno ottenuto risultati anche grazie alle consulenze private naturalmente non sono da meno però queste tre in particolare mi hanno toccato qualcosa in senso che hanno mai rifatto tante le ore con me oppure hanno avuto dei risultati veloci oppure hanno diciamo avuto tutti i vantaggi e benefici che può ottenere grazie alla consulenza privata e che comunque meritavano di essere premiati ma nessuno è da meno perché comunque siamo veramente un gruppo forte c'è tantissima energia e tanta voglia di fare bene e io ragazzi vi ringrazio e saluto tutti i nostri clienti e vi ricordo che se volete fare una consulenza privata con me per vedere se possiamo aiutarvi o naturalmente con uno delle nostre tele per capire qual è il percorso che è più adatto come cosa possiamo fare in quanto tempo e cos'è la cosa più per cominciare a fare un percorso naturalmente vi ricordo che ci avete la possibilità di fare una consulenza privata direttamente con noi di RediPiù quindi ragazzi io vi aspetto per la prossima puntata Giovanni Redi non sono un personal trainer grazie a tutti